Lo riconosci questo? Come si chiama? Si chiama Charles Robert Darwin. È importante il secondo nome Robert perché era il nome del padre che lui odiava per fargli rabbia, è andato alle Galapagos e ha scoperto la teoria dell'evoluzione. E questo? Questo lo conosci? E questo è Robert Louis Balfour Stevenson. Sì, Balfour, il nome della madre, importante perché gli ha lasciato la tubercolosi e lui per guarire è andato per mare e ha scritto l'isola del tesoro. E questo? Questo come fa di nome? Beh, questo fa di nome olio extravergine di oliva di OP, Riviera Ligure, ma si chiama anche Riviera dei Fiori perché viene da Castellaro, provincia di Imperia. E questo invece, beh, di primo nome fa sempre olio extravergine di oliva di OP, Riviera Ligure, ma di secondo nome fa Riviera di Levante perché viene da Santa Margherita, provincia di Genova. E poi vabbè, ci sarebbero anche quegli oli della riviera del Ponente Samonese. Ma insomma, la morale è che sono degli oli, che sono fratelli, ma non sono gemelli perché vengono da sottozone diverse. Eh sì, i nomi sono molto importanti, non ci credi, è la biodiversità, bellezza. E allora vieni il 15 e il 16 giugno in Liguria a visitare, ad assaggiare i frantoi, gli oliveti,